Cheswick, sei volontario tu? Schello? Billy, senti, non mi dirai che pure tu sei volontario, eh? Sì. Ma non è possibile. Ma dico, se sei ancora un ragazzino, che cosa ci fai qui? Dovresti spassartela su una bella spider, a rimorchiare ragazze, a scopare come un matto. Che cavolo ci fai qui, vacca troia? Ma che ci avete da ridere? Ma porcaccia, ma dico io, ma voi altri non fate altro che lamentarvi che non ce la fate stare in questo posto. Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. Invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Ma guarda questi. È incredibile.